Appassionati di Magic the Gathering Arena, ben trovati, come ben sapete la Wizards ha fatto reset completamente, quindi visto che tutti i mazzi, tutte le carte, tutti i gold sono stati completamente resetati, tranne le gemme che eventualmente il giocatore aveva comprato con soldi veri, io mi sono ritrovato ovviamente ad avere un grussoletto di gemme che avevo comunque da parte perché durante la beta avevo acquistato dei pacchetti per supportare il gioco, e quindi ho approfittato e ho aperto delle buste sia da Dominaria che da Ravnica per avere un mazzo iniziale per poter comunque iniziare a fare le quest e guadagnare i gold e poter fare poi i draft eccetera come al solito, come la programmazione classica. Quindi adesso mi sono ritrovato ad aver creato due mazzi con cui sto andando avanti piano piano in modo da poter ripristinare tutta la normale attività che c'era anche prima, quindi draft, singleton e il nuovissimo sealed pure. Come mazzi ne ho scelti due come vi dicevo, quello che vi presento oggi è l'Historic che è quello a cui eravate già abituati nella precedente incarnazione del gioco e che quindi ho voluto riproporre sia perché comunque è un formato che è ancora molto valido, un archetipo che è ancora molto valido perché chiaramente Dominaria c'è ancora ed è attivissima, più in forma che mai direi, e sia perché in questo modo idealmente mi sto portando appresso un mazzo di quelli a cui ero molto affezionato e così sento un po' meno il dispiacere di averli persi tutti insieme. Ovviamente ho dovuto riadattarlo perché questo era un mazzo composto da molte carte delle espansioni precedenti e quindi ho dovuto cercare di ribilanciarlo bene, adesso ve lo faccio vedere. Allora abbiamo il Stile Away, quello è ovviamente di Dominaria, non l'ho cambiato e sono rimaste due copie. Poi Blink of the Night è sempre rimasto questo, questo è nuova, questo è un counter di Guild of Rannica, costa due e ne utilizza uno in incantesimo con mana convertito 4 o più, quindi questo magari è da usare nei turni più avanzati. Edsel Scatter, questo l'hanno per fortuna ristampato in Magic 19, quindi tutto a posto, ne ho messo solo uno, non so per quale motivo, perché forse avevo fatto la prova, sì, avevo fatto la prova per vedere come funzionava questo, perché questo ovviamente è counter a qualsiasi tipo di bersaglio, ma questo no. Poi abbiamo 3 Merfolk Trickster, questo è la carta diciamo più dibattuta di questo mazzo, perché c'è chi dice che non serve a niente e che c'è di meglio, e c'è chi dice che invece può essere utile in determinati frangenti e comunque è una creatura 2-2 che si cala con 2, io che è diciamo la mia opinione, perché tra l'altro l'ho usata molto spesso per disinnescare, oltre a tapparle, quindi a evitare che attacchino per quel turno o per quello dopo se lo gasto all'inizio del turno dell'avversario, praticamente gli disabiliti completamente tutte le abilità, cosa che in certi frangenti non era male. Poi abbiamo due historiobenare che ovviamente non sono cambiati. Unwind, allora se non erro c'erano diversi counter nelle espansioni che sono ruotate fuori, e per sopperire a questi counter ho voluto in questo mazzo fare un po' di prove, ho approfittato, quindi ho messo anche Unwind che è molto bello come counter, perché poi le terre che attappi delle stappe, il problema è che costa 3 e che countera solo le non creature, quindi non lo so, sono ancora indeciso. Comunque, questa è nuova, questa è bellissima secondo me, perché innanzitutto Convoke, quindi se hai creature in gioco ti aiutano a castarla, e quando entra in gioco esiglia un permanente bersaglio. Questo l'ho messo, se non erro, al posto di Ixalan, che è ruotato, e mi sembrava una buona alternativa, anche se mi pare che Ixalan Binding era instant, se non erro. Il rovescio della medaglia positivo di questa è che c'ha Convoke, quindi lo puoi anche castare con meno. Poi, Settle the Breakage non è cambiato, e ovviamente il Fumiget, non troverete il Fumiget. Al posto del Fumiget ho messo la Cleansing Nova, perché mi sembra abbastanza ovvia come scelta. C'erano due creature molto importanti nel mazzo vecchio che ho dovuto sostituire, ed erano il Gear Halk, ovviamente, che è insostituibile, e che veramente mi mancherà tantissimo, e l'altro era la Walking Ballista, quindi mi sono dovuto arrabbattare un pochino. Al posto della Walking Ballista ho messo, credo questo, Weatherlight, che è vero che costa un bel fottio, ovvero 4, però più o meno siamo ai costi della Ballista quando la cali per avere qualche utilità, almeno la cali con due segnalini, quindi 4 ti costa. Questa è molto bella perché si equipaggia, si attiva con 3, è volante, e poi chiaramente ogni volta che attacca ti puoi prendere una carta storica in un mazzo del genere, è praticamente fantastico. E al posto del Gear Halk, credo di aver fatto qualche magheggio tra le creature, comunque ho messo Shalai, che è in prova, diciamo in versione di prova, perché sebbene abbia degli effetti molto buoni, ovvero da ex-proof a tutto, praticamente, a tutte le creature e a te stesso e a tutti i blindswalker, ovviamente la sua abilità attivata io per il momento non posso attivarla perché non ho mana verde, non so se puoi pensarci a questa cosa, se poterla attivare o no, perché effettivamente più o più o più o a tutte le creature non è male, però per il momento l'ho messa solo per il fatto di avere una protezione per le altre creature e perché è chiaramente leggendario e quindi interagisce con tutte le altre meccaniche del mazzo. Poi l'altra cosa che è ruotata fuori era quella che ti fa fare scry e ti fa pescare due carte e questa è più o meno uguale, tra l'altro, a Jumpstart. Fantastica, questa la uso anche nell'altro mazzo, questo è uno spoiler che vi faccio. Questa è molto carina. Jumpstart, se non siete ancora pratici di Ravnica, è quell'abilità della Gilda Izzet, che ti permette di castare questa magia dal cimitero se scatti una carta o però la esili, chiaramente. Poi abbiamo i Rav che non sono cambiati, sono sempre gli stessi, sono sempre il numero di 3. Weatherlight l'abbiamo visto, Cleansing Nova l'abbiamo visto, l'Ira ovviamente non è cambiata. Poi abbiamo il Teferi, di cui uno è quello speciale che hanno dato al 9 beta tester della Closet Beta, quindi sono sempre rimasti 2. Io ero un po' indeciso se metterne 3. Sono cambiati molti equilibri in questo mazzo, quindi sono un po' indeciso se lasciarne 2 o 3. Comunque vedremo. Poi un'altra creatura che ho trovato sempre in prova, per sopperire a quelle che sono ruotate, è questa. Te, di Ravnica, è nuova. Questa, Volare. Mentor, ovvero ogni volta che attacca si mette un segnalino più 1 più 1 a una qualsiasi creatura che ha forza inferiore a lei. E, la cosa più bella è che, quando muore, metti un più 1 più 1 su tutte le altre creature bianche, che comunque ci sono. Poi ho voluto fare la prova suprema, ovvero il bombone, il bombone finale, sempre da Ravnica, che costa 8, e quindi non so neanche se ci arriverò mai. Comunque è un 4-8 Volare, Double Strike, Vigilance Tremple, Indistruttibile. Una cosa proprio leggerissima, tanto per rendere frizzante la partita. E poi ho messo un 5. Lo so che è strano questa distribuzione di counter, effettivamente, perché ce n'è uno e uno e uno, però era un attimo per provare, per avere un po' più di varietà. Per quanto riguarda le terre, non credo che ci sia nulla di cambiato, sono ruotate alcune cose che ovviamente non ho più, però più o meno siamo sempre uguali. Bene, questo era il mazzo. Rimanete sintonizzati perché nei prossimi giorni metterò anche un altro mazzo, che è quello che, diciamo, mi ha più coinvolto in questi giorni, che è il mazzo Glimir, della gilda Glimir, appunto, che è una delle gilde che mi piace di più, su cui ho puntato gli occhi maggiormente già da quando avevo visto gli spoiler. ed è divertentissimo, ragazzi. Ho già fatto delle partite, ho fatto anche Quick Constructed, che metterò prossimamente. Vi garantisco che è stupendo, quindi non ve lo perdete. A presto, ciao ciao!